Musica Padula, focus nazionale strategia aria interna e oggi referenti nazionali a colloquio con il ballo di Diano. Padula, il dirigente scolastico Liliana Ferzola interviene sul progetto di strategia, i giovani sempre più interessati al lavoro della politica. Crisi idrica 2017, CONSAC lancia l'allarme per Cilento e Vallo di Diano, le parole dell'ingegner Parrilli. Teggiano, festeggiati i 75 anni di presenza delle maestre PIE e Filippine a Prato Perillo. Sant'Arsenio ha concluso il progetto Salute e Benessere realizzato e ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gorga Pica. Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. Questa mattina focus nazionale per la strategia delle aree interne, un'occasione definita imperdibile che deve essere funzionale ad un reale rilancio del territorio valdianese. Tanta la partecipazione soprattutto di giovani che con i diversi istituti scolastici erano presenti per ascoltare idee e progetti che gli attuali amministratori e responsabili di enti ipotizzano per portare lo sviluppo nel territorio. Questa mattina appuntamento dedicato al progetto di strategia delle aree interne con il focus nazionale che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutto il territorio per la presentazione del piano preliminare di strategia. Dal febbraio del 2015 la comunità montana Vallo di Diano, presieduta da Raffaele Accetta, sta lavorando con il coinvolgimento del territorio nella realizzazione di piani di sviluppo condivisi che siano in grado di raggiungere la meritata crescita culturale oltre che economica. Tante le idee su cui lavorare, tante le necessità di un territorio che però vanno ora realizzate. Questa mattina una grande manifestazione che ha visto soprattutto protagonisti giovani giunti presso l'aula consigliare della Certosa di San Lorenzo a Padula per partecipare al focus nazionale delle strategie delle aree interne, alla presenza anche dei responsabili nazionali. I ragazzi hanno avuto a disposizione uno spazio in cui mostrare alcuni dei lavori a cui si sono dedicati durante il corso di studi. Tanti gli interventi previsti nel corso della presentazione del preliminare di strategia delle aree interne, un progetto che ha consentito al Vallo di Diano di rientrare tra i progetti piloti di tutta Italia, come ha più volte sottolineato il presidente della comunità montana Raffaele Accetta. Abbiamo questo primo appuntamento dopo un percorso lungo, durato circa tre anni, con il Comitato nazionale per presentare il preliminare del progetto di strategia del nostro territorio. Progetto che naturalmente nasce e si sta realizzando e si sta concretizzando attraverso il coinvolgimento di tutti, di un partenariato locale abbastanza vasto e di un partenariato istituzionale, così da tutti i sindaci del Vallo di Diano. Abbiamo bisogno di sviluppo, lo sappiamo e noi proprio per questo motivo stiamo dicendo e stiamo utilizzando come slogan immaginiamo insieme il nostro sviluppo, costruiamo insieme il nostro futuro. E quindi lo facciamo a partire da oggi perché da questo primo arrivo parte poi la fase esecutiva del progetto nella quale cercheremo di attribuire un poco a quelli che sono le nostre esigenze e una concretezza anche attraverso finanziamenti che speriamo possano essere colti da parte sia della regione che da parte del Ministero. E come abbiamo visto c'è stata tanta presenza di giovani studenti del Vallo di Diano al focus nazionale della strategia per le aree interne una presenza che ha mostrato come l'interesse dei giovani stia crescendo soprattutto quando si parla di essere informati sulle attività poste in essere dalle istituzioni per poter garantire un futuro lavoro nel territorio e una possibilità di crescita. Questo infatti è emerso dalle parole del dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula, Liliana Ferzola, che ai nostri microfoni ha sottolineato l'importanza del progetto. Io credo che questa sia l'unica opportunità che ha il Vallo di Diano per cercare di mettere insieme quelle che sono le visioni non sempre condivise da parte di tutte le istituzioni locali. Ho verificato nel corso della mia esperienza precedente e anche negli ultimi tempi che è indispensabile che per il Vallo di Diano si abbia una sola mission e una sola vision da parte di tutti gli attori. Tra gli attori non individuo soltanto gli enti locali, ma individuo anche e soprattutto le istituzioni scolastiche, in particolare le istruzioni superiori, perché ormai le scuole non sono più chiuse al loro interno. Probabilmente si sa che a Padula quest'anno ci sono state attività di pomeriggio sempre. Anche la ragione Campania attraverso l'assessore Fortini ha voluto aprire le scuole al territorio, cosa che è riuscita come buona pratica, ma questo deve diventare una buona pratica da esportare. La stessa cosa deve avvenire per quanto attiene le istituzioni che contano. La governance del Vallo di Diano, mi riferisco al Presidente del Parco, al Presidente del GAL, al Presidente della Comunità Montana, all'ingegnere di Enzo, ai sindaci dei vari comuni, ai rappresentanti dell'ASL, al responsabile del piano sociale di zona e altri, non possono non sedersi a un tavolo e decidere con questa occasione delle aree interne qual è il futuro che vedono per il Vallo. E allora credo che sia un'occasione non solo unica ma addirittura storica se sappiamo veramente coglierne il significato profondo. Noi l'abbiamo fatto, i nostri ragazzi e credo pure quelli delle altre scuole, anzi senz'altro, si stanno avvicinando alla conoscenza di questo tipo di realtà perché vogliono essere informati sul loro futuro e soprattutto vogliono che le istituzioni sappiano dire loro che visione hanno per lo sviluppo del Vallo e quale visione migliore di essere area pilota alla seconda in Campania che potrà offrirci anche delle opportunità finanziarie ma soprattutto per la formazione del personale. perché diciamocela tutta, in passato tutto ciò che era legato alle grandi traiettorie dello sviluppo del Vallo di Diano era legato al turismo. Ricordo l'epoca dell'assessore di Lello in cui furono ricostruiti tantissimi casolari. Adesso c'è tanta recettività ma fondamentalmente è priva di contenuti. I contenuti che vanno messi all'interno del Vallo di Diano laddove non c'è un'industria che conduce l'economia ma ci sono le idee e i beni artistico-culturali il nostro contenuto deve essere inevitabilmente culturale. Ecco perché il liceo scientifico di Padula ha abbracciato all'interno della strategia delle aree interne lo sviluppo di tutto ciò che è cultura che deve diventare il contenuto dei contenitori che sono stati già costruiti. E oltre alle scuole erano molte le rappresentanti istituzionali presenti questa mattina al focus nazionale della strategia per le aree interne. Tutti presenti riconoscendo l'importanza di questo progetto che riveste una garanzia di futuro del territorio. Sanità, assistenza, lavoro, scuola e trasporti c'è tanto da fare. Ma ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato. Ci sono tutte le possibilità e le condizioni per fare un buon lavoro. Quello che è stato fatto non era un lavoro scontato, non è stato semplice arrivare fin qui. Ora siamo veramente nel clou delle due progettualità. A dire il vero è un po' più avanti il Gall per una questione di tempi perché la regione Campania è adeguata con i fondi europei 2014-2020. E quindi noi credo che nel prossimo inverno usciremo con una serie di bandi del PSR. Ormai abbiamo già organizzato tutta la macchina, sappiamo che siamo arrivati primi nella graduatoria regionale definitiva, aspettiamo ancora il decreto che spero arriverà nel prossimo mese di giugno. Dopodiché noi siamo pronti. Ci affianchiamo alla strategia aria interna e tra le altre cose la nostra sede operativa l'abbiamo spostata qui all'interno della Certosa di Padula grazie al contratto che abbiamo fatto col Comune di Padula. La sinergia è già forte con la comunità montana, tra le altre cose è il maggiore socio pubblico all'interno della compagine sociale del Gall e dovrà ancora essere più forte e più sinergica per trovare tutte quelle miscele che creano energia positiva per creare lavoro, perché non è che possiamo dire altro. Queste sono le condizioni. Per creare lavoro, lo sappiamo bene, oggi è piuttosto complicato, lo è stato sempre, ma oggi probabilmente lo è ancora di più, sono delle grandi opportunità che noi dobbiamo cercare di cogliere nel migliore dei modi possibili. Ci serve non perdere tempo e non perdere nulla, nel senso che per quanto riguarda la sanità, ovviamente che è il mio settore, posso tranquillamente dire che abbiamo bisogno di migliorare, migliorare per offrire alla gente la possibilità di vivere e vivere questo meraviglioso territorio nel migliore dei modi. Mi spiego in maniera netta, concreta, come il mio solito. Noi per esempio abbiamo il problema degli anziani in questo territorio, perché la regione Campania è sicuramente una regione giovane. Noi siamo in controtendenza, abbiamo una popolazione anziana che è notevole e che aumenta sempre di più e proprio per le peculiarità del nostro territorio è necessario fare qualcosa per questa popolazione in maniera tale che deve essere la sanità ad andare in maniera corretta a casa degli anziani, ma non per questioni di costi, per evitare i ricoveri, per offrire un servizio che sia, ripeto, il migliore possibile a una popolazione che merita quest'altro. Se pensiamo che quelli che sono gli elementi cardini di cui si parla nell'area interna, il turismo, si parla anche di turismo sociale, turismo per i disabili, turismo per i malati di SLA, turismo per i malati di celiacina e via dicendo. Se parliamo di territorio, di agricoltura, parliamo di agricoltura sociale, parliamo di fattorie sociali, quindi voglio dire il piano di zona in quanto tale è pur vero che è deputato a fare quelli che sono i servizi standard, l'assistenza agli anziani, ai disabili, ai centri di uni e quant'altro, però noi contiamo e infatti noi abbiamo una grande interlocuzione con il coordinamento dell'area interna perché immaginiamo di spingere su quelle che sono le attività specifiche legate un po' alle tematiche sociali, quello che appunto dicevo prima. Per cui per noi sono momenti importantissimi perché significa sviluppo per il territorio, qualità della vita, significa un po' quello che è il futuro delle nuove generazioni, ma il futuro anche del presente rispetto ai cittadini che dovranno usufruire di determinati servizi. Ed ora la cronaca, sette mesi da licenziamento e con ancora nessuna notizia circa il proprio futuro, gli operai della centrale idrica di Caggiano hanno continuato comunque a garantire il servizio. Questa mattina però all'interno della struttura un operaio si è barricato e ha minacciato il suicidio se non parla con un referente della regione. Una situazione ormai estenuante per gli operai che già nei mesi scorsi avevano manifestato la propria condizione. Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, presente anche il sindaco di Caggiano, Giovanni Caggiano, che è raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, si auspica come l'incontro in programma domani in Prefettura possa chiarire una volta per tutte la vicenda. E ancora in protesta sono gli operai della Ergon, le risposte non arriveranno, difficilmente arriveranno nelle prossime ore, ma nonostante questo continua la protesta degli operai che da lunedì sono davanti ai cancelli della sede della Ergon ubicata nella zona industriale di Polla. Ricordiamo che gli operai, conclusi i corsi di aggiornamento svolto in regime di autosospensione, dovevano rientrare al lavoro, ma dalla Ergon era arrivata una lettera nella quale chiedeva di soprassedere dal rientro, vista la crisi aziendale. Tuttavia gli operai chiedono risposte, da lunedì sono in protesta, come detto. La società, ricordiamo, si è riservata ogni decisione in attesa delle determinazioni della Regione Campania che dovrebbe provvedere al ricollocamento delle unità in esubero. Ed ora parliamo della crisi idrica. Il Consorzio CONSAC ha lanciato l'allarme da qualche tempo, circa un'importante crisi idrica che si sta verificando tra il Cilento e Vallo di Diano. Per il clima secco, l'inverno poco piovoso e il caldo giunto in anticipo, si sta registrando un'importante crisi idrica in tutta la provincia di Salerno. CONSAC, che gestisce il servizio idrico integrato in gran parte del Cilento e del Vallo di Diano, ha lanciato l'allarme da qualche tempo. A causa della scarsità delle piogge invernali, si legge in un recente avviso agli utenti, non si sono ripristinate le dotazioni idriche delle principali faldi acquifere destinate all'erogazione idropotabile. L'eccezionale fenomeno ha comportato una riduzione del 48% della portata media delle fonti di approvvigionamento che ha già imposto l'attivazione di tutte le risorse emergenziali provenienti da pozzi e dighe. La situazione è destinata ad aggravarsi con l'aumento delle temperature e l'incremento dei frussi turistici. I problemi potrebbero toccare l'apice nei mesi di luglio e agosto. Ciò comporterà l'adozione di limitazioni e di vieti per i consumi agricoli, il lavaggio di piazzali, la chiusura dei fontanini pubblici, nonché l'attuazione di sospensioni dell'erogazione per le linee periferiche non destinate alla residenza. Si ipotizza poi, continua l'avviso, un diffuso ricorso a turnazioni dell'erogazione di acqua potabile che riguarderanno inizialmente le ore notturne ma potranno anche interessare le ore diurne in relazione alle specifiche esigenze locali di ripristino dei livelli dei serbatoi a servizio dei centri abitati. Ferma restando la situazione critica generale vanno distinte le aree a maggiore criticità da quelle destinate a subire disfunzioni minori. Tra i comparti caratterizzati da criticità di basso livello si legge nel dossier sulla crisi idrica 2017 che Consac ha pubblicato di è quello costituito dai comuni del Vallo di Diano, dove alla ridotta portata idrica attualmente disponibile si sopperisce con l'utilizzo di impianti elettromeccanici normalmente impiegati nel solo periodo estivo emergenziale. Non si prevedono qui al momento significative criticità ma resta comunque alto il livello di attenzione da parte di Consac che auspica una generalizzata presa di coscienza del problema e invita ad un uso responsabile della risorsa idrica. Restiamo in tema dopo le diverse comunicazioni relative alla crisi idrica in corso da parte di Consac e vari enti. Ha stato convocato ieri un incontro presso la prefettura di Salerno. nessuno ha presenziato a parte Consac che aveva sollecitato l'incontro ed era rappresentata nell'occasione dall'ingegner Felice Parrilli, referente regionale di protezione civile Vincenzo Cincini e il sindaco di Sapri, nonché membro del CDA del Consac, Giuseppe del Medico. Il vice prefetto Giuseppe Forlenza, come si legge nel verbale della seduta, ha ritenuto di non poter continuare la riunione in assenza di importanti enti interlocutori tra cui la provincia e la regione. Raggiunto telefonicamente l'ingegnere Parrilli, direttore del servizio idropotabile del Consac, fa il punto della situazione. Sì, è proprio così. Noi abbiamo chiesto l'incontro in prefettura per stabilire con la regione alcuni punti fondamentali che potrebbero mitigare la crisi idrica che si presenta davanti ai nostri occhi in protezione futura, cioè nei prossimi mesi estivi. Purtroppo però siamo stati presenti noi del Consac che è soltanto un rappresentante regionale però della protezione civile e non del ciclo idrico integrato come noi avevamo chiesto. Beh, in effetti una prima lettura era stata proprio questa, però i recentissimi contatti di ieri stessa, anche di stamattina, con la regione sembrerebbero invece far discendere questa assenza da altri impegni sempre su crisi idriche che riguardano questa volta il napoletano, quindi c'è stata una coincidenza di incontri. Per cui la regione spessa proponeva di rivederci, di riaggiornarci a inizio settimana prossima per prendere in considerazione le nostre problematiche. Ma sostanzialmente noi chiediamo questo di concreto, al di là di tutti quelli che sono gli accorgimenti ormai noti o perlomeno che proviamo a rendere noti sia ai comuni interessati sia anche agli utenti attraverso degli opuscoli informativi, attraverso delle news che pubblichiamo costantemente sul nostro sito. Al di là di questo noi abbiamo chiesto alla regione due specifici interventi, uno che riguarda la possibilità di attingere risorsa idrica dalla sorgente del faraone che alimenta buona parte del cilento e un'altra di contattare i due consorsi rigui, consorsi overi e consorsi rigui di Vallo della Lucania, da cui attingiamo risorsa idrica da potabilizzare e che chiediamo non venga invece utilizzata in maniera massiccia ma con delle limitazioni per l'uso idroelettrico soprattutto e leggermente anche verificare se è possibile ritoccare in diminuzione l'uso riguo senza per questo però mortificare alcun tipo di produzione agricola evidentemente. Spostiamoci ora a Montesano sulla Marcellana dove l'amministrazione comunale ha approvato il progetto per la realizzazione su una superficie di 3600 metri quadri di un polo che possa contenere al suo interno tutti i diversi corpi delle forze dell'ordine chiamati alla tutela dei cittadini e appunto dell'ambiente. È un polo logistico che consenta così al cittadino di poter trovare in un edificio tutte le risposte senza doversi più dimenare da una parte all'altra. Ora ne abbiamo parlato con il primo cittadino di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi che ascoltiamo. Un anno di amministrazione dove la pianificazione del territorio di quello che deve essere da qui a qualche anno è stato fondamentale per poter poi lavorare negli anni successivi perché se non si ha l'idea precisa di quello che si vuole fare per il proprio territorio comunale se non si ha una visione complessiva delle strutture presenti, dei servizi da generare ecco si rischia di fare poi interventi attentoni così slegati tra loro che non hanno nessun progetto integrato e a volte lasciano il tempo che trovano. Quindi in quest'ottica di pianificazione più ampia del territorio che verrà rappresentata nel prossimo PUC che approveremo a breve abbiamo pensato anche che la frazione di Montesano Capoluco il centro storico di Montesano Capoluco, la città dei servizi di Montesano Capoluco si arricchisca di un polo della sicurezza che possa ospitare tutte le forze dell'ordine locale e non solo affinché il cittadino innanzitutto, perché è un progetto rivolto innanzitutto e i cittadini possa quando ha bisogno e necessità di un servizio in materia di sicurezza e anche di tutela, possa recarsi in un'unica struttura e trovare tutte le possibili risposte che fanno al suo caso. Da qui poi è una progettazione più ampia perché Montesano è a confine tra due regioni, è un territorio vasto, è il terzo della provincia di Salerno ha una presenza di montagna notevole, ha delle situazioni ambientali che conosciamo di particolare delicatezza quindi richiede anche un intervento fondamentale e importante in materia di tutela ambientale quindi da lì anche l'idea di poter avere in questo polo logistico che deve ospitare la nuova Casa Arma dei Carabinieri anche una parte dedicata alla tutela dell'ambiente, poi anche le associazioni locali, di settore ma soprattutto, questo è il punto su cui vogliamo lavorare tanto, un polo che possa diventare un riferimento nel meridione d'Italia per la formazione all'interno dei settori della sicurezza Arma dei Carabinieri innanzitutto, abbiamo previsto anche il rinnovamento di una palestra a fianco che possa servire proprio per l'attività fisica dei militari, ma dico di più, studi, seminari, formazione anche attraverso i luoghi naturalistici che abbiamo lì vicino, così che davvero possiamo essere un centro a disposizione della sicurezza del territorio nazionale, locale e non solo abbiamo già un finanziamento per fare il primo blocco, perché qui parliamo di una struttura importante, molto ampia di cui abbiamo fatto già un adeguamento, una struttura di oltre 4.000 metri quadrati di cui possiamo realizzare già la prima parte per allocare la nuova Casa Arma dei Carabinieri quindi parliamo anche di un progetto che concretamente, se ottieni nulla ossa da parte, come giusto che sia degli organi competenti, soprattutto dell'Arma dei Carabinieri, può avere un immediato riscontro sul territorio, è importante la pianificazione, pensare quali possono essere le opere utili per il territorio la sicurezza lo è in maniera importante, perché territori a confine, come il nostro, sono territori che hanno necessità di presenza costante dello Stato e questo è un progetto che vuole ribadire come sia fondamentale la presenza costante dello Stato anche nei territori come i nostri Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria a tra poco Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News riapriamo andando a Teggiano nei giorni scorsi l'Istituto delle Maestre Pie Filippine ha festeggiato i 75 anni di presenza a Prato Perillo di Teggiano una grande festa che ha permesso anche di ricordare la pubblicazione del libro realizzato dagli alunni con il supporto dei docenti e del premio vinto dall'Istituto a Prignano Cilento per festeggiare gli alunni hanno realizzato un musical dedicato alle fondatrici della congregazione Nei giorni scorsi grande festa a Teggiano per i 75 anni di permanenza delle Maestre Pie Filippine in località Prato Perillo un anniversario che è stato anche occasione per ricordare e illustrare ai presenti il gran numero di iniziative che l'Istituto ha realizzato grazie ad un'attiva e fattiva collaborazione con gli alunni e docenti dell'Istituto I bambini infatti nei giorni scorsi sono stati anche premiati a Prignano Cilento per il conseguimento del secondo posto al concorso didattico su il valore dell'acqua per il rilancio dell'agricoltura sostenibile della dieta mediterranea Inoltre l'Istituto di Scuola Primaria Maestre Pie Filippini ha anche pubblicato un libro di fiabe e racconti realizzato dagli alunni con l'aiuto dei docenti dal titolo Tra Fantasia e Realtà Il futuro è già qui, acquistabile anche sul sito della Feltrinelli Gli alunni e i docenti dell'Istituto per ringraziare le suore di quanto quotidianamente realizzano per la comunità di Teggiano e per la loro vicinanza e attenzione nei confronti dei tanti bambini che in passato, come nel presente, sono stati aiutati a crescere grazie alle morevoli attenzioni della Maestre Pie Filippini hanno deciso di regalare loro per questo anniversario la rappresentazione di un musical dal titolo Una vita donata dedicato a Santa Lucia Filippini fondatrice della Congregazione delle Maestre Pie che ha ripercorso la storia della Santa vissuta a cavallo tra il 1600 e i primi decenni del 1700 e proclamata Santa da Papa Pio XI nel 1930 Abbiamo festeggiato i 75 anni di presenza qui a Prato Perillo in realtà sono molti di più gli anni in cui siamo presenti a Teggiano però nell'occasione delle feste dell'origine, la nascita della parrocchia hanno incluso anche noi perché insieme alla parrocchia il Vescovo Caldarola ha voluto che crescesse anche una scuola delle Maestre Pie che lui aveva conosciuto a Bitonto perché lui è di Bitonto allora ha fatto del tutto per avere le sue Maestre Pie anche a Prato Perillo quindi in concomitanza con la festa della parrocchia anche noi abbiamo celebrato i nostri 75 anni li abbiamo festeggiato con una bellissima celebrazione domenica domenica passata e con un musical ieri pomeriggio nella celebrazione della Messa abbiamo avuto grande partecipazione perché la nostra scuola ha conosciuto generazioni ha educato, ha formato, ha accompagnato tanti ragazzi di questa località di questa zona dove allora c'era un alfabetismo c'era un'emigrazione verso l'estero quindi rimanevano bambini orfani di guerra e le Maestre Pie hanno raccolto anche questi bambini nella loro casa Molti alunni oggi sono dei valenti professionisti Sì, sono, ecco ricordiamo il preside del Pomponio Leto il preside qui Gallo della scuola pubblica statale ricordiamo il sindaco che è il nostro ex alunno tutta la giunta di quest'anno è quasi tutta formata da ex alunni noi siamo orgogliosi perché evidentemente hanno imparato da noi lo stile e diciamo come si forma, come si educa, come si dirige perché la nostra missione è anche dirigenziale è appunto di formazione, di educazione cominciare dalla scuola dell'infanzia fino al quinto anno di scuola primaria la scuola è ancora frequentata, molto stimata, amata e noi ringraziamo le famiglie del passato le famiglie di oggi perché sono loro a dare l'input forte alla nostra scuola senza di loro non potremmo esistere e ieri sera spettacolo teatrale e musicale al Teatro Amabile di Sant'Arsenio per chiudere il percorso didattico realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gorga Pica di Sant'Arsenio è rivolto alla salute e al benessere del progetto e delle sue finalità ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico il professor Pietro Mandia e il naturalista Nicola Di Novella ritengo che sia un percorso molto utile proprio per conferire ai ragazzi una competenza di cui spesso non si parla cioè la competenza legata allo spirito imprenditoriale ma in questi casi quando parlo di imprenditorialità mi riferisco alla capacità che i ragazzi devono dimostrare di essere promotori di un progetto di vita personale un progetto di vita che non può prescindere da una sana alimentazione dalla conoscenza della corretta alimentazione e quindi il progetto che noi promuoviamo attraverso diverse attività è un progetto che invita i ragazzi a riconoscere gli alimenti sani a scegliere degli stili di vita utili a realizzare a definire un percorso personale più sano e sicuramente abbiamo proposto delle iniziative particolarmente utili anche per quanto riguarda l'aspetto psicofisico abbiamo portato avanti un percorso di yoga inteso come attività capace quindi di trasmettere anche a livello spirituale dei valori assolutamente importanti quindi l'equilibrio interiore oltre che l'equilibrio fisico legato all'alimentazione sono secondo me percorsi imprescindibili e sicuramente utili è un'attività da ripetere anche negli anni successivi e quindi sicuramente la nostra proposta è indirizzata innanzitutto ai giovani per fare in modo che essi stabiliscano quindi quel corretto elemento comunicativo poi con i genitori che ritengo che abbiano già ricevuto dai loro genitori le sane abitudini di vita quindi che sono legate alla civiltà contadina e alla civiltà rurale Nell'ambito di tutto l'istituto dei ragazzi ho cercato di portare loro l'esperienza che i nostri uomini del passato tenevano nei rapporti con la natura e quindi l'utilizzo per una sana alimentazione prima delle piante spontanee che loro conoscevano perfettamente ed insegnavano ai nipoti il passaggio di esperienza in questo campo era nonno-nipote, nonno-nipote, nonno-nipote mai tra padre e figlio per cui tutti quanti, quelli della mia generazione si ricordano di, ah così mi diceva mio nonno quindi ho fatto il nonno per loro e quindi da un lato insegnare loro al riutilizzo delle piante spontanee alimentari e poi portare anche l'esperienza sulle antiche coltivazioni quindi tutto ciò che riguardava il mondo del frumento che era la base principale e quindi la conoscenza dei frumenti antichi la conoscenza anche dei luoghi antichi dove questo frumento veniva coltivato e quindi le zone collinari erano preferite proprio perché rappresentavano una sicurezza non c'era l'allagamento della pianura, c'era la sicurezza dei pendii collinari e quindi la possibilità di un ritorno alla ricoltivazione dei pendii collinari quindi raggruppare in questo breve incontro che ho avuto con questi ragazzi queste esperienze e cambiamo argomento dal 2 al 4 giugno il Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano ha organizzato una passeggiata in auto d'epoca da Salerno al Vallo di Diano e che si concluderà a San Giovanni Appiro San Tour 2017 Classic Cars Amalfi Coast to Lucana Coast è il titolo dell'iniziativa messa in campo dal Rotary Club Sala Consilina Vallo di Diano presieduto dell'Avvocato Pasquale Gentile la manifestazione organizzata con la collaborazione di altri Rotary Club della provincia di Salerno non è altro che una passeggiata in auto d'epoca che porterà i rotariani provenienti anche dalle regioni del Lazio, Toscana e Puglia a scoprire le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche della provincia di Salerno la passeggiata si svolgerà dal 2 al 4 giugno si parte venerdì 2 giugno alle 9.30 dal lungomare di Salerno con visita al castello di Arechi per raggiungere poi il centro storico di Eboli nel pomeriggio la visita al Parco Acreologico di Pestum il giorno successivo, sabato 3 giugno si parte da Pestum per raggiungere Roscigno Vecchia dove si potrà ammirare il centro storico dopo gli alburni si scende nel Vallo di Diano con le auto d'epoca dei rotariani che arriveranno a Polla alle 12 per la visita al convento di Sant'Antonio nel pomeriggio invece si ci trasferirà alla Certosa di San Lorenzo a Padula domenica ultima tappa che dal Vallo di Diano porterà al Cilento alle 9.30 partenza dal centro storico di Sala Consilina per raggiungere il porto di Scario e infine località Bosco a San Giovanni a Piro Ed ora lo sport è in programma sabato prossimo la sesta edizione della Corri Villa Mare che quest'anno valida come quinta tappa del circuito Cilento di Corsa 2017 la 17.00 Sabato 3 giugno in programma la quinta tappa del circuito podistico Fidale e Coni Cilento di Corsa nella frazione rivierasca del comune di Vibonati davanti al mare bandiera blu d'Europa andrà in scena la sesta edizione della Corri Villa Mare organizzata da Angelo Molinaro e dalla SD Cilento di Corsa in collaborazione con la SD 3C Cilento Running Academy e con il patrocino del comune di Vibonati i corridori partiranno alle ore 18 da Corso Italia dopo il primo giro pianeggiante lungo il centro abitato affronteranno per due volte le dure rampe della Torre Petrosa e delle Ginestre dove è fissato il GPM della gara prima di giungere al termine del terzo giro sul traguardo di Corso Italia dopo quattro tappe in testa le gradatorie maschile femminile e team del circuito restano Camela Lag dell'Idi Atletica Aurora Battipaglia Daniela Capo dell'Agropoli Running e la Camaldolese alla manifestazione di sabato come di consueto saranno protagonisti anche i bambini la gara competitiva sarà infatti preceduta da staffette gioco di 50, 100 e 200 metri riservate ai piccoli dai 6 ai 13 anni e con questo servizio termina l'edizione delle Uno News io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti